Primo giorno di menù ragazzi I corsari neri qua, i cuochi neri Arrivano sti ordini o no? Lavora, lavora Lavora, lavora Pace il regista, il regista di tutto Sposta i capelli Giannico, non si vede Posso chiedere perché avete clienti solo donne? Solo donne? Sono solo donne Non le ho viste Sì, sì, guarda le carote C'è Davide che è figo Davide è figo io me la trovo Cosa ti ho insegnato? Fatalusca Fammi un commento in barese dai Stiamo per impiattere questo orto di pomodoro Gratinetto Gratinetto Vi do un'informazione che non è neanche giusta dare Ci sono delle ragazze là che stanno facendo la punta La lotteria Chi si pigliano? Lotteria? Ve le faccio vedere, guarda Ve le faccio vedere perché sennò non ci crede nessuno Non ci arriva lo zoom Sono in fondo là Anche scorfani Saranno anche scorfani, intanto sono quattro Sono scorfani Davvero Sto hai detto quattro? Ci tiri? Ci tiri E quello già fa la panna, guarda Quello l'ha già montato Primo pronto? Grande, grande Grazie 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 Grazie